Quanto l'audio alla Santa Michele rappresenta tutto quello che non mi piace E' tipo Fedez se non facesse il ministro Il ministro del turismo Che hanno detto, oh lei è socio del Twiga Perché suoniamo tutta l'Italia così, tipo Ibiza, musica da discoteca Gente truccata in spiaggia, nessuno che paga le tasse Già indagata per banca rotta, adesso probabilmente sarà indagata anche per tuffa aggravata Ma non mi ha colpito il compagno della Sant'Anchero, sapete chi cazzo è? Dimitri Kunz d'Asburgo e Lorena, Pia Spievi, Scrivi, Ceveluno, Spalia, Rasponi, Spinevi e Romano, Principe Dimitri Mi esco a Leopollo, che uno lo legge e fa Uno degli Asburgo e Lorena, no? Se ne è messo nulla Ve lo giuro, andate a cercare Rasponi e Spinevi l'avremmo sapere Rasponi e Spinevi mi sono appena La casata d'Asburgo e Lorena, che ogni volta che lui viene fuori dice Non è dei nostri Ex moglie, che va ancora in giro a dire Sì, io mi potrei far chiamare principessa Ma non ci tengo Sapete con chi sta l'ex moglie di questa testa di c***o? Con Sallusti L'ex della Sant'Anchero Le son cattolici, cercano di salvare i matrimoni No, fanno tradirole Con Sallusti non è neanche un uomo, è una sozoga No, fanno tradirole